La questione stabilizzazione degli operatori del piano di zona resta un appuntamento ancora quotidiano nell'agenda di diverse forze politiche, oltre che dei sindacati, nelle città coinvolte, le due Nocera, Castel San Giorgio e Rocca Piemonte. A Nocera inferiore se ne parlerà giovedì prossimo in Consiglio Comunale. A Nocera superiore i consiglieri comunali di minoranza Carmine Amato, Rosario Danisi e Francesco Saverio Minardi dopo l'infocata riunione di commissione dello scorso giorno hanno chiesto il ritiro del bando e di prendere in considerazione anche la richiesta di incontro urgente protocollata dalle federazioni sindacali. In questa commissione io e i miei colleghi Minardi e Danisi abbiamo appurato insieme agli altri colleghi che l'amministrazione Cufro, la maggioranza dell'amministrazione Cufro non vuole fare la stabilizzazione. Hanno dato le loro motivazioni, ma le loro motivazioni diciamo lasciano il tempo che trovano. Andrete avanti, avete chiesto anche un Consiglio Comunale monotematico, volete ascoltare i sindacati nuovamente perché credete che insomma qualche strada può essere trovata. Sicuramente, noi non ci fermeremo qui, andremo avanti, vogliamo le risposte anche in Consiglio Comunale se c'è bisogno, giusto per trovare la quadra di questa situazione perché andiamo a toccare i servizi sociali, andiamo a toccare delle fasce deboli e bisogna aiutare queste persone.